Neanche un euro in più per la specialistica ambalotoriale, il nuovo decreto adottato dal commissario della sanità Massimo Scura dopo la bocciatura da parte del TAR, delle precedente, cioè il DCA 72 2018, che fissa il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambalotoriale da privato accreditato, interga la parte istruttoria con i dati di cui i giudici avevano lamentato l'assenza. Ma non modifica di una virgola il quantum, cioè la cifra del finanziamento massimo programmato dalla Regione Calabria per comprare attraverso le ASP prestazioni dai laboratori privati accreditati. Cifra che viene definita in 60.918 euro al netto delle ticket e quota ricetta, pare a quella del precedente decreto, ammonta pertanto a circa 61 milioni, il livello massimo di finanziamento per il 2018 recita il decreto da corrispondere alle strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambalotoriale, compresi gli accorpamenti di prestazione ambalotoriale APA e i pacchetti ambalotoriali complessi PAC con oneri a carico del servizio sanitario regionale. Insomma, nel succedimento all'offensiva dei titolari dei laboratori rappresentati da Federlab e Anisap che dopo aver manifestato in piazza la loro protesta contro i provvedimenti del commissario erano passate alle vie legali impugnando due decreti di scura, il secondo riguarda le risorse aggiuntive alle cliniche private davanti al giudice amministrativo. Ma la struttura commissariale ha ritenuto opportuno agire su due fronti e mandare il provvedimento impugnando, aggiungendo le informazioni richieste e inviare all'avvocatura dello Stato l'invito a procedere al ricorso al Consiglio di Stato per la sospensione della sentenza del Tarre. Dunque sarà Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, a dire l'ultima parola su questo complesso contenzioso.